guarda avanti guerriera se c'è una cosa che non ho mai capito è come mai ogni volta che una persona si trova ad affrontare una malattia una brutta malattia come questa viene definita guerriera viene definita come una persona che scende in trincea armata pronta a combattere e quando combatti come in tutte le guerre o vinci o perdi siamo ufficialmente uscite dall'ospedale finalmente dopo otto mesi dopo quattro interventi posso dire che finalmente è tutto finito attualmente non ci troviamo a casa nostra come state vedendo ma abbiamo preferito rimanere nei pressi dell'ospedale perché mi sentivo un attimino più tranquilla almeno per la prima settimana le mattinate iniziano con mille che si alza prima di me si lava si veste si prepara e poi aiuta me a prepararmi e lei che si occupa di farmi le punture io una fifa tremenda degli aghi meno male che c'è lei e poi mi aiuta a mettere queste insopportabili calze che con questo caldo diventano ancora più insopportabili e sì sono nuda ma se decidi di raccontare una cosa o di far vedere questa cosa sui social per dimostrare qualcosa per cercare di lanciare un messaggio o lo fai fino in fondo o non lo fai e come vedete non ho delle semplici mutande o perlomeno non ancora per un po devo tenere un pannolino io sul tempo di far abituare un attimino il mio intestino e comunque sono anche orgogliosa di mostrarvi la mia pancia la mia pancia senza stomia attualmente ancora un piccolo cerotto perché la ferita è aperta mi hanno lasciato un bocchino sulla pancia che rimarrà aperto per tre quattro settimane all'incirca e si chiuderà da solo per seconda intenzione ho bisogno dell'aiuto di mille per alzarmi dal letto perché sono senza pancera e c'è il rischio che io mi faccia venire un'ernia quindi lei con molta forza riesce a tirare su i miei 60 kg la pancera dovrei metterla dal traiata ma proprio non ci riesco perché la parte appiccicosa del velcro mi si appiccica dappertutto soprattutto sulle calze e quindi la metto solo una volta in piedi ma una volta che ho la pancera parto come un treno e non mi ferma più nessuno riprendere le normali abitudini riprendere a farsi un caffè da sole ma soprattutto assaporare il caffè voi non potete immaginare quanto mi sia mancato in tutto questo tempo è diventata davvero una cosa meravigliosa ma in realtà tutto è diventato meraviglioso non so spiegarvi è come se stessi rinascendo ma secondo me sono proprio rinascendo mi ritrovo proprio a guardare tutto con meraviglia ad assaporare tutto con meraviglia e ogni cosa mi sembra diversa ma allora cosa voglio dirti con questo video cara guerriera se sei passata di qua sai cosa ti dico sai cosa ti racconto ti racconto che in tutto ciò in tutto quello che è stato in tutto quello che ho passato in questi otto lunghissimi ed eterni mesi non ho mai avuto la disperazione non sono mai caduta nella disperazione ho cercato sempre di essere determinata ho cercato sempre di rimanere lucida sicuramente grazie ad un aiuto e grazie a questa esperienza ho anche raggiunto la consapevolezza che ogni malattia quindi anche questa non è nient'altro che un percorso di consapevolezza il quale mi è servito davvero ad imparare e che cosa ho imparato ho imparato ad apprezzare ogni singola particella del mio corpo ho imparato ad amarlo ho imparato a prendermi cura di esso ho capito la grande immensità della fortuna che ho ad avere un corpo un corpo sano e funzionante ho appreso indubbiamente che non salterò mai più un controllo ho imparato ad amarmi ho imparato ad accettare i cambiamenti ho imparato ad accettare ed assaporare ogni attimo mi sento quasi un bambino un bambino appena nato che impara a respirare mi sento come un bambino perché ho imparato a guardarmi intorno con la stessa meraviglia che fa un bambino la prima volta che viene portato fuori con il passeggino e sente il cinguettino degli uccellini e vede tutti questi colori meravigliosi ed ho imparato a camminare perché non camminavo più ora odori e sapori hanno di nuovo trovato una coerenza e mangiare è diventato davvero un piacere ed eccomi qui ora con nuove cicatrici da mostrare e un'energia da leonessa pronta a ripartire mi è stata data una seconda possibilità e di certo non la brucio cara guerriera insisti resisti e vai avanti perché in trincea ci sei già stata hai combattuto ed hai vinto cara guerriera ricordati che di cancro si vive ricordati che non sempre si muove ricordati che non sempre ci stronca questo male ricordati che il cancro non è una sentenza e non sempre è un male incurabile e se in questi 40 anni ho sempre pensato che un gatto riuscisse a vedere qualcosa che io non riuscivo a vedere lì fermo immobile con lo sguardo beh ora so di vederlo anche io perché ho imparato a guardare ad osservare e a stare in silenzio proprio come lui andando avanti cara guerriera a differenza di ciò che pensavo il tempo non è nelle nostre mani ma il modo di viverlo sì e tu guarda sempre avanti un po' di ciò che pensavo non è un po' di ciò che pensavo non è un po' di ciò che pensavo Grazie per la visione!